Erz presenta due nuove esclusive della flotta Selezione Italia. Svelate non a caso sul circuito di Vallelunga, le nuove Abarth 595 Turismo Key Erz e Fiat 500 Carlo Iconi rappresentano la sportività in stile italiano. Due proposte realizzate da Garage Italia solo per Erz, passato e futuro in particolare con la ResMood Iconi dove le 500 degli anni Sessanta rivedono la luce con una bella dose di elettroni, sostenibilità infatti assicurata da un nuovo propulsore completamente elettrico che insieme ad un accurato restauro la rende una vera icona moderna. Si basano invece sull'attuale modello Abarth gli altri esemplari di 595 KHz che, proprio come lascia intendere il gioco di parole nel nome, vede l'aggiunta del Kers rendendo di fatto il 1.4 Turbo un mild hybrid. Si arricchisce così la caratteristica linea Selezione Italia di Erz che permette di noleggiare il meglio del Made in Italy su ruote.